E' un bel momento dell'anno per fare questo, l'inverno energeticamente è un momento di entrare in se stessi, la vita si ritira dentro, il nostro corpo non è lontano dalla natura. Ritiriamoci dentro in questo periodo dell'anno, il sostizio d'inverno era la celebrazione di questo, perché da questo ritirarsi dentro emerge la primavera, emerge la fioritura, emergono le nuove foglie, emerge il nuovo stato di coscienza. Allora, festeggiamo il sostizio d'inverno con questo passaggio interiore. Accogliamo tutto, accogliamo l'oscurità, diventiamo parte di tutto, senza timore, non c'è bisogno di avere nessun timore. Non c'è niente che non possa essere vissuto, non c'è niente che non possa essere accolto, non c'è niente di più forte di noi. Niente. Niente perché noi siamo adagiati nella vita e la vita è un potere meraviglioso che l'ego cerca di trasformare nel mio potere, ma non c'è niente di mio. Ed è così profondamente pieno di gioia Il fatto che non sia un mio potere ma che questo potere passi attraverso di me e diventi un mezzo per me di ascendere per me di avere uno stato di coscienza più alto e un dono per gli altri. Grazie Grazie